Lo sappiamo, è lutto nel mondo per la morte della regina Elisabetta II. Con lei a Buckingham Palace lavorò anche un trentino, Luigi Povinelli, da Carisolo. Massimo Mazzalai. Alla Val Rendena, alla corte della regina Elisabetta, è la storia che Luigi Povinelli di Carisolo raccontò alla TGR nel 2000. Intervistato da Franco Pistolato, Povinelli spiegò come da emigrante a Londra rispose ad un annuncio sul giornale e si ritrovò a tendente di palazzo dal 70 all'86. E quando Luigi da Carisolo, coetaneo di Elisabetta II, chiese di andare in pensione, ricevette dalla regina una risposta rimasta proverbiale. Quando mi ha chiesto di rimanere io ci ho detto no maestà, perché? E dice ma perché? Dico perché sono vecchio. E allora lei mi ha detto non siamo mica vecchi a 60 anni. Nella casa di Carisolo Povinelli conservava i ricordi della vita trascorsa a palazzo e sulla famiglia reale aveva un'idea ben precisa. In casa è una madre e una moglie che credo ce ne sono poche famiglie così affiatate e credo che vogliono molto bene i figli, tutti quanti e anche quel personale è una persona, una signora, ecco non è la regina, è la signora e la padrona di casa. Molte cose sono accadute a Palazzo Reale da quell'86. Luigi Povinelli è morto nel 2017, cinque anni prima della sua regina che ora tutto il mondo saluta. Grazie a tutti.